Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con la nuovissima puntata di Spill it's a win, messima 91, slash Cristiano Cervigni, che sarei io. So che non è domenica, ma per ovvi motivi, dato che vi ho messo i tre vlog di quando siamo andati a fare il tampone per scoprire se ero guarito o meno dal covid, ve li ho messi lo scorso weekend, questa puntata è saltata, ma è arrivata adesso, ok? Quindi benvenuti in questa nuova puntata piena di gossip, voi mettetevi comodi nel frattempo, io ho un ciuffo qua, ribelle, che ok, se sto così magari non si vede, La mia alopecia della barba sta continuando ad esserci, la mia voce è un po' così, però ovviamente sono in compagnia della mia Red Bull Sugar Free, ovviamente, quindi 3, 2, 1, momento ASMR Cannuccetta, sorso iniziale Direi che se avete già messo mi piace a questo video, per essere contenti di vedermi anche oggi, possiamo iniziare con i gossips, e vorrei partire da una notizia un po' balenga, Non ce ne incastra niente nessun VIP in Italia, nessun VIP in Europa e nel mondo, ma voglio parlare un attimino di un social network che ha fatto molto parlare in quest'ultimo anno e soprattutto quest'ultima settimana Voi non so se lo conoscete, ovviamente penso di sì, c'è un social network chiamato OnlyFans, che praticamente era nato come gli altri, come Facebook, come Instagram, solo che al posto di postare cose gratis, te per seguire una persona che vuoi seguire dovevi pagare un abbonamento mensile, ok? Ovviamente però, come tutte le cose in cui devi pagare, si è trasformato un attimino in un sito un po' pemperapempesco E quindi ci sono accorsi numerosi ad iscriversi a questo OnlyFans, tutte le persone che hanno un grande C, o un altro grande C, o anche delle grandi T, o anche una grande F Che hanno fiutato l'occasione di fare big money e quindi hanno iniziato a fare e mettere delle foto un po' o se o anche dei veri e propri tape E ci sono delle persone anche qua in Italia che, secondo me, hanno fatto dei big money Ma, ragazzi, ragazzi, perché vi voglio parlare di questo? Perché mi voglio mettere anch'io su OnlyFans? No, non posso permettermelo, anche se, vabbè Semplicemente perché ha appena annunciato questo social che dal primo ottobre non si potranno più caricare contenuti espliciti E quindi addio ai sedicenti tori, così, adesso tutti sono diventati tori, capito? E quindi, la mia domanda, cioè, il mio pensiero va a loro, poverini che stavano facendo migliaia e migliaia di euro Tra tip, video, abbonamenti e sponsorizzazioni e da ora vi dovete trovare un lavoro, ragazzi No, sto scherzando C'è già qualche altra cosa, tipo Just for Fun, queste robe qua Però, io non voglio parlare della polemica e di tutto quanto Voglio parlare del perché l'azienda OnlyFans abbia deciso questo E, ovviamente, come tutto, gira intorno ai soldi, al business e alle varie collaborazioni Infatti, l'azienda ha commentato così la notizia Per garantire la sostenibilità a lungo termine della nostra piattaforma E la possibilità di continuare ad ospitare un'inclusiva community di creators e fans Dobbiamo evolvere le nostre linee guida sui contenuti Ma non è tutto perché dietro questa scelta di ripulire un attimino il loro nome Ci sarebbero anche miliardi e miliardi di euro No, magari miliardi no, però milioni e milioni di euro Dati dagli investitori, dalle aziende pubblicitarie E che si sarebbero detti un attimino contrariati Nello sponsorizzare o nel mettere le proprie pubblicità su un social Un po' un attimino pem-pem-pem-poso Ora, io voglio dire questo La fortuna di OnlyFans è stata proprio il pem-pem Ok? Milioni di utenti pagano abbonamenti Tipo di 10 dollari, 11 dollari, 3 dollari, 20 dollari Poi decida il creator in questione quanto far pagare il proprio abbonamento Per vedere queste cose Se te da un giorno all'altro queste cose, contenuti espliciti, me li togli Vuoi perché se no non puoi fare l'app per le app store Su app in Apple e Android Non puoi mettere un'app un po' per la tempo in pesca Quindi vuoi per gli investitori, vuoi per tutto Ma mi lasci l'abbonamento per vedere gente che cucina Gente che fa vlog Gente che canta Lo sappiamo tutti che il pem-pem attira soldi E tutto il resto no Ok? Quindi secondo me ci sarà un crollo generale Tipo come è successo a Tumblr E non vale nemmeno il fatto La candela, secondo me Dei soldi degli investitori Perché il grande di OnlyFans Stava nel guadagnare tramite gli abbonamenti, no? Se nessuno più si abbonerà Perché non c'è più niente da guardare di pem-pem-pem-poso Mi sa che andranno via anche le pubblicità e i vari investitori Perché meno pubblico, guarda Meno affluenza c'è, meno soldi prendi, meno pubblicità arrivano Quindi, non lo so È durato anche abbastanza, secondo voi, questo OnlyFans Generation? Oppure comunque ci sarà sempre un escamotage? Quando scopriremo la risposta a questa domanda Spero che tutte queste persone che hanno fatto miliardi con questo sito Non l'abbiano spesi tutti Ma, ragazza, ragazzi Io cambierei un attimino argomento Spostiamoci in Inghilterra Perché, non so Ve li ricordate? Allora, al giorno d'oggi ci sono i BTS Come boy band mondiale più amata del mondo, appunto Ai miei tempi c'erano i Backstreet Boys Ma tra i Backstreet Boys e i BTS Durante la mia adolescenza C'è stato un nuovo gruppo in Europa che ha sbancato praticamente tutto Sto parlando dei Blue, ok? Ma che figli hanno fatto i Blue? Non lo so, ci sono sciolto Ognuno ha fatto le proprie cose Però non è che ce ne frega molto di questo Ce ne frega invece di Lee Ryan Era quello che faceva gli acutoni Tipo Ah, che mi dice? Lui, insomma, è tornato a far parlare di sé Non perché un mese fa ha dichiarato di essere bisex Vabbè, ma chi ci crede? Ma perché rischierebbe il carcere Per non aver pagato una multa di 1500-1600 euro circa E voi direte Ma come è possibile? Come è mai? Cosa sta succedendo? In pratica, in poche parole Lee Ryan è stato multato Perché andava oltre il limite di velocità, no? Con la sua macchina E in più non aveva voluto rivelare le proprie generalità Alla gente in questione Quindi Lee Ryan è stato processato con questi due capi d'accusa Ed è stato dichiarato colpevole E dovrà pagare questa multa di 1600 euro 1600 euro che Lee Ryan dichiara di non avere perché in bancarotta E quindi proprio per questo rischierebbe il carcere Ma ragazzi ragazzi I blu hanno venduto milioni di copie in tutta Europa Soprattutto anche qui in Italia Lee Ryan insieme a tutti gli altri Avranno guadagnato nel 2003, 2004, 2005, 2006 Milioni e milioni di euro Dove la spessi secondo voi tutti questi soldi? Ve lo dico io Già qualche giorno fa Lee Ryan stesso su Instagram dichiarò questo Sono al verde e non ho soldi È vero Non ho risparmi Sono onesto Non ho più un soldo Però è a causa della pandemia E non è qualcosa su cui ridere Non dovete ridicolizzarmi Molti hanno perso così tanto a causa della pandemia Solo perché sono famoso non significa che dovrei essere deriso dalla stampa per questo La pandemia ha rovinato così tante vite Inclusa la mia Ora che la pandemia abbia dato una mano a questa cosa io non lo metto in dubbio Perché comunque ha un po' sfracellato tutti no? Ma non puoi dare tutta la colpa a quest'ultimo anno Se te dieci anni fa nemmeno avevi non lo so 10-20 milioni di euro guadagnati facendo album Dato che secondo il The Sun la fortuna guadagnata dai blu durante il loro periodo d'oro Si aggira tra i 60 e i 100 milioni di sterlire Fate quello diviso 4 quanti erano? 4 diviso 5 quelli che erano? Cioè non è che ti rimaneva poco in tasca Quindi ok la pandemia ma avrai fatto altre cose L'avrai spesi Non so nemmeno come si faccia a spendere tutti questi soldi Però boh Infatti Samper The Sun dichiara questo Lee Ryan ha fatto feste faraoniche, viaggi in jet privati, vacanze sontuose e serate costosissime Lo stile di vita che ha adottato ha portato Lee a diventare dipendente dall'alcol Cosa che è stata riconosciuta dal compagno di band Duncan James E che lo ha mandato in riabilitazione In più oltre a questo In un programma tv Lee Ryan ha ammesso appunto Che siccome era diciamo il bad boy Il party boy Quello sopra le righe Della band Allora si sentiva in dovere di comportarsi anche in questo modo E ha detto così Stavo andando tutto nella direzione sbagliata Avevo ricevuto avvertimenti dal mio medico Che la situazione stava diventando pericolosa Ma se devo essere onesto Non stavo prestando molta attenzione ai rimproveri Il denaro fatto nel periodo di massimo successo È stato sperperato in pochissimi anni La gestione del denaro non fa per me In realtà ne ho regalato molto In più c'è stata Oltre a questo c'è stata l'ammazzata finale Che sia Lee Ryan che tutti gli altri blu Sono stati trascinati in tribunale dal loro vecchio management E quindi gli hanno preso Hanno cercato di rovinare Gli hanno preso tanti soldi Hanno spesso tanti soldi Però insomma Tutte queste milioni di sterline Sono finite E quindi Lee Ryan A me mi dispiace Però tanto avrai modo di andare in uno dei reality Tipo Big Brother In Inghilterra O se no tanto l'Italia T'ha sempre amato Ti prenderanno in un reality anche qui Basta che tu impari un po' l'italiano Che comunque lo sai E i soldi li rifarai alla grande Mi dispiace solo vedere queste persone Che nemmeno qualche anno fa Fanno milioni di euro E non ci sia nessuno che gli sta dietro Per aiutarli un attimino a non sperperarli tutti Perché ragazzi non si parla di 10-20 mila euro Si parla di 10-20 milioni di euro E finire 20 milioni di euro Ce ne vuole raghi? Ma vabbè Ma ragazzi e ragazzi Io passerei un attimino Allo scoop Non della settimana Ma quello che ha fatto parlare di più Perché c'è stato un botto e risposta Faboloso Sto parlando Della nuova edizione del Grande Fratello Ormai ogni settimana esce qualcosa di nuovo Tutto è quasi pronto Per questa nuova edizione E uno dei concorrenti dati Praticamente per certi A partecipare a questa nuova edizione Del Grande Fratello VIP Era Razz Degan Razz Degan Vincitore indiscusso Di una dell'isola dei famosi Di Canale 5 Praticamente Era stato dato per certo Da tutti su internet Tant'è Che lo stesso Razz Un giorno si sveglia E ti sceglie Di mandarmi in direct Buona primavera No scherzavo Se riconoscete questa citazione Scrivetemelo Perché io vi amo Incondizionatamente Comunque Fatto sta Che Razz Degan Un giorno si sveglia E decide di rispondere Un po' A queste Voci Che lo volevano Dentro il Grande Fratello Non andandoci piano Dicendo questo Girano articoli Che dovrei entrare In una casa piena Di spazzatura Che neanche il più grosso camion Dello spurgo Riuscirebbe a pulire O scrostare E' solo una fake news Passiamo avanti Non ci è andato leggero Non ci è andato piano E allora Dopo queste dichiarazioni Molte hanno detto Ah vabbè Sarà stata una fake news Che è circolata Insomma per far parlare Un po' di sé Del ritorno del Grande Fratello Però Io ho notato Molta rabbia Dei confronti Di questo programma Ti può piacere Come ti può non piacere Ma addirittura Offendere In questo modo Boh c'era qualcosa Che non andava E questo qualcosa Che non andava Ci ha pensato Davide Di Maggio A tirarlo fuori Dicendo questo In barba post di Instagram Pubblicati dal diretto Interessato La trattativa per entrare Nella casa più spiata D'Italia C'è stata Ma come per primi Vi abbiamo rivelato Sui social Non è andata a buon fine Scrive Davide Di Maggio La richiesta di 500.000 euro Per soli 30 giorni Di permanenza Nella casa È stata rispedita Al mittente E grazie a rivederci Ora che un personaggio Non voglia prendere parte Al reality show Di canale 5 È una scelta sacrosanta Che si alzi La posta in gioco E i giochi Non vadano come si desidera E poi si difenda La propria immagine Di troppo figo Per partecipare Di una casa piena Di spazzatura Ci fa ridere parecchio Quindi Davide Di Maggio E poi questa notizia È stata ripresa da tutti Ha diciamo Rivelato La sua verità Dicendo Raz de Gun Che ora dice La casa piena di spazzatura Io non c'entrerò mai In realtà Non c'entra Semplicemente Perché Il grande fratello Ha detto no Alla sua richiesta Assurda Di volere 500.000 euro E soprattutto La sua permanenza Doveva durare Soltanto un mese Fate un calcolo voi Di quanti sono 500.000 euro Diviso 30 Cioè I giorni In cui doveva starci Quanto voleva Il giorno Raz de Gun Che ora Ok Bravo Ok Magari Super adatto Che secondo me No Però 500.000 euro Per un mese Dentro il grande fratello Non li darei nemmeno A Brad Pitt Ragazzi Comunque Fatto sta che A questo punto Inizia il bot E risposta Perché Raz de Gun Risponde A queste accuse Dicendo questo Il virus Delle fake news Continua a mutare È arrivata La variante Delta maggio Sempre più insidiosa 500.000 Neanche per un milione Ah 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 La dignità Non è in vendita E la spazzatura Si dimostra Un problema quotidiano Il giorno dopo C'è sempre Una busta Da buttare Ora basta Vado a pescare E fatto anche la rima Hashtag fake news E a questo punto Davide Maggio Un ci sta E Rerisponde Seccato E stizzito Dicendo Sì sì Fake news Trattativa Andata avanti Per una settimana Direttamente Da formentera Con le risorse Artistiche Risorse 500.000 E sto Penso siano Le citazioni Quello che avrebbe detto Raddegan E in più Dopo Davide Maggio Ha pubblicato Anche su twitter Questo tweet 500.000 E confermo Trattativa Durata una settimana E portata avanti Direttamente Senza gente Con le risorse Artistiche Mentre era Formentera Hashtag Fake news Un cazzo Allora A questo punto Hashtag Non ha più risposto Ora A me Alla fin fine Me ne può fregare De meno No E qui Siamo qui Per parlare Un po' Per spettacolare Durante questa fine estate Che questa estate È stata bellissima Ragazzi Però Io dico Secondo me Conoscendolo un po' Dall'isola dei famosi No Di come si è comportato All'isola dei famosi Secondo me Questa trattativa C'è stata Veramente Ma può anche darsi Che Razdegan Li prendesse un po' In giro E avesse sparato Una cifra Così a caso Per Farsi dire Di non O per prendere In giro Gli autori Perché avrà pensato Anche lui Che una richiesta Così spropositata Non sarebbe Stata accettata Mai Però Avrà anche pensato Ma però Nel caso in cui Dovesse l'accettare Io mi faccio Mezzo milione di euro Così in 30 giorni Ti amo Boh Secondo me è andata Tipo così Ma ora Da qui A dire Esplicitamente No È una fake news No Io non entrerei mai Nemmeno per un milione Cioè Anche troppo Anche perché Non lo so Ci sarà una registrazione Da qualche parte I don't know Comunque La notizia era questa Fatemi sapere voi Qua sotto tramite commento Se magari vi sarebbe piaciuto Come concorrente Del grande fratello Raz the gun Oppure no Ma Se lui Ha mentito O ha detto la verità Ma comunque Non entrerà Dentro il grande fratello È stata invece Ufficializzata La primissima Concorrente Di questa prossima edizione Dico È stata ufficializzata Perché è stata intervistata Direttamente Da chi Chi È di Alfonso Signorini Alfonso Signorini È il presentatore Del grande fratello VIP E se lei Ha dichiarato In un giornale Di Alfonso Signorini Che sarà Dentro il grande fratello E Signorini Ce l'ha schiaffato Proprio Quasi in prima pagina Significa che allora è vero Sto parlando Di Katia Ricciarelli Ok Katia Ricciarelli La cantante Ex moglie Di Pippo Baudo Posso dire Cioè In my opinion Non è molto simpatica Però È perfetta Per il grande fratello Nel senso Quando l'ho vista In determinati programmi Aveva il suo caratterino Ok Con le risposte un po' piccate Un po' così No E È una che non sta mai zitta Quindi Secondo me Dentro il grande fratello Se ci metteranno Non lo so Qualche gallina Sarà perfetto Ci litigherà tutto il giorno E ci faranno Morire di trash Quindi Ma Anche se Comunque Come personaggio Non è uno dei miei preferiti Ma Mi sa che Come scelta Invece è stata Veramente Veramente Adatta Sperando che lei Appunto Faccia Un po' di show Un po' di show Ma Ragazze e ragazzi Andiamo avanti Con La prossimissima notizia Oggi Tantissime notizie Un po' così Baleng Perché I vaneschi Non mai Hanno successo In tutto il mondo La band È seguita Ovunque E La ragazza del gruppo Victoria È stata paparazzata Questa settimana In compagnia Di un amore Di una Ragazza Le foto Sono state pubblicate Da Diva e Donna Io vi metto L'unica che ho trovato Qua E si vede proprio No Victoria In compagnia Di una ragazza Ci sono anche Delle coccole Degli abbracci E In realtà Questa cosa Non è che abbia Sconvolto Molto i fan Dei Maneskin Ma anzi Erano Semplicemente Contenti Perché Victoria Da sempre Ha dichiarato Di essere bisessuale Di aver avuto Anche in passato Delle storie Finite bene Con Delle ragazze Quindi La notizia Non è che Lei Sia stata Paparazzata Con un'altra ragazza Ma Semplicemente Che Forse Probabilmente Avrà trovato L'amore Quindi Io Adoro 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 E Dopo Questa Parentesi Amorosa Andiamo Direttamente In America Perché vi Devo dire Due cosette La prima È che Qualcuno Nella famiglia Di Kardashian Sta aspettando Un secondo genito Qualche tempo fa Caitri Jenner Durante un'intervista Ha dichiarato Questo Ho 18 nipoti E un diciannovesimo È nel forno Ok Lo disse A TMZ Ma Non disse Quale delle figlie Stava aspettando Fino a quando Una fonte Rimasta Ovviamente Anonima Molto vicino Alla famiglia Ha Praticamente Spiattellato A tutto il mondo Che La Kardashian Che sta Aspettando Il secondo Figlio Sarebbe Kylie Jenner Io Adoro Tanto Oh se un figliano loro Che c'hanno miliardi Chi vuoi Partigliano Kylie Jenner Ha avuto Stormi Qualche anno fa Dal fidanzato Travis Scott E Lei E anche Tutto il resto Della famiglia A parte Kylie Jenner Che ha parlato Un po' troppo E ha iniziato Questo 00 settaggio Da parte di tutti i fan Non ha dichiarato Nemmeno Durante la prima Gravidanza Di essere Rimasta incinta Ma Ce l'ha detto Praticamente Una volta Sgravato Diciamo così Anche con un video Super carino Su Youtube E quindi Si dice Che nemmeno Per questa Seconda gravidanza Voglia Dire le cose Ma che Voglia Rimanere Un po' In disparte Tutto deve essere Segreto Per Scaramanzia E dato che La prima volta È andata bene Chissà quanti miliardi Ha fatto anche lì Però Insomma Il tutto ci fa pensare Che Kylie Jenner Stia aspettando Un secondo figlio Anche perché poi I fan Dopo questa notizia Che ha iniziato a circolare Hanno iniziato a confrontare Le foto nuove Di Instagram Le Instagram stories Insomma Alcuni dicono Sta pubblicando Foto vecchie Perché adesso Nelle Instagram stories Le unghie Sono di un altro colore Insomma La gente È impazzita Ma lo scopriremo A questo punto Tra qualche mese Nel frattempo Io faccio Le congratulations A Kylie Jenner Come se Vedesse mai Questo video Insomma Ma non è l'unica Ad essere incinta Perché ormai Ci siamo quasi Sta per sgravare Anche Cardi B La rapper Anche lei In attesa Del secondo figlio Dal marito Off Off Qualcosa Insomma Rapper Non mi ricordo Ho tipo Un lapsus Ha da poco pubblicato La sua collaborazione Con Lizzo Altra cantante Di grande successo In America Che si chiama Rumors Ma Lizzo È una cantante Che tipo Qualche anno fa Ha avuto Il mega boom E ha sempre dichiarato Di essere fiera Delle sue forme E della sua Corporatura Un po' morbidosa Ma Qualcosa È cambiato Perché Ultimamente Diciamo che È stata presa Dallo sconforto Dati Dai ripetuti Attacchi Degli haters Soprattutto Per quanto riguarda Il suo fisico E lei dichiara questo Sto cercando di trasmettere Tanta energia positiva Nel mondo Ma a volte Sento che il mondo Non mi ama E continua Se non ti piace La mia musica Va bene Se non ti piace Rumors È fantastico Ma a molte persone Non piaccio Per il mio aspetto Rumors Mi è costato Un estenuante Lavoro di scrittura Esibizione E promozione Sono più sensibile Questo mi fa sentire Molto giù Mi sento ferita Per le persone Che hanno sempre Qualcosa di negativo Da dire su di me Che non ha nulla A che fare Con la musica O sulla mia attività Come artista E ha solo A che fare Con il mio corpo E qualsiasi altra cosa Pensi Succhiamila Da dietro Adoro Perché io mi sforzo A provare gioia Ogni singolo giorno Ma ottengo tristezza Esaurimento Rabbia Fastidio Stanchezza Insicurezza Sulla strada Della gioia Ci sono tutti Questi pit stop E io L'ho appena superata Appena superato Scusate E la stessa Cardi B Arriva In soccorso No Dicendo questo Quando ti difendi Rivendicando il tuo lato Problematico E sensibile Quando non lo fai Ti fanno a pezzi Finché non piangi così Che tu sia magro Grosso Di plastica Ricorda che questi Sono nerd Che guardano Il tavolo Popolare Insomma Io Ormai Lo sapete Cioè A me La gente che offende Così a gratis Soprattutto per la fisicità Di una persona Merita proprio Meno di zero E evidentemente Lizzo Dopo tutti questi anni Si è sentita Proprio sopraffatta E quindi non ce l'ha più fatta Ha detto Basta Sono umano Anch'io Avete ruot Tu vogliono Fregatene Lizzo Hai un'ennesima Altra canzone di successo Sei in cima A tutte le charts Almeno quelle americane Cioè Ma chi se ne frega Di questi sfigati Che da casa Magari con un account fake Super invidiosi Della vita Magari scintillante Che adesso fai Ti iniziano a offendere Non leggere Commenti Li blocchi Anzi fai così Prendi uno Uno Che gestisca i tuoi social Così non li leggi Non li leggi nemmeno Direttamente I commenti Li fai cancellare E ciaone E goditi i milioni Che ti sei fatta Adesso Ragazzi Ragazzi Io vorrei concludere Con una notizia Che non è un gossip Ma era una notizia Abbastanza seria Perché voglio parlare Di YouTube Anch'io Che purtroppo Questa settimana È venuto a mancare Ho letto Praticamente Che Omar Palermo Questo era il nome Di YouTube Anch'io È stato stroncato Da un infarto A soli 42 anni Mentre era In una clinica Di Cosenza Che stava facendo Una riabilitazione E purtroppo Non ce l'ha fatta Quindi Mi è sembrato doveroso Fare Un piccolo Disclaimer No Una piccola parentesi Per ricordarlo Se voi ricordate Io qualche anno fa Feci un video Chiamato Mi sembra I casi umani Di YouTube In cui ci misi Anche lui Ora Secondo me Il suo stile Di vita Era molto sbagliato Quello che faceva Vedere su YouTube Che mangiava Tantissime cose Era molto sbagliato Ma comunque Qualche anno fa Ero anche più giovane Io Ero anche un po' Più ignorantello Magari Mi sono lasciato andare A dire cose Che al giorno d'oggi Non direi Adesso so Che ultimamente Lui aveva perso Tipo 35 chili Perché si stava Rimettendo in forma E Infatti Era un po' Di tempo Che non faceva Più video Mi dispiace Ovviamente Per la La sua mancanza Per la sua perdita Faccio le condoglianze Ovviamente Alla famiglia Chiedo scusa Se magari in passato Io Potrei aver detto Cose un po' Di cattivo gusto O cattive Ma Ripeto Che Era proprio Secondo me Lo stile Di vita Che ha avuto Non è stato Proprio dei migliori Diciamo così Però Non siamo qui Per far polemica Faccio ancora una volta Le condoglianze E Niente Era una notizia Che riguardava appunto Uno degli youtuber Che comunque Aveva 700.000 follower Qua E Voi lo sapete Io ne parlo sempre Insomma Anche se è una cosa Un po' più seria Ho voluto Parlarne un attimino Con voi Ma Ragazze Ragazzi Fatemi sapere adesso Voi qua sotto Tramite commento Tutto quello che volete Grazie per aver passato Un'altra mezz'ora Insieme a me Anche oggi Quindi Se vi ho fatto compagnia Con tutti questi gossip Anche Questo pomeriggio Lasciate un mi piace A questo video Che io Ve ne sarò Per sempre grato E iscrivetevi al mio canale Se ancora non lo avete fatto Mi avevano bloccato Il profilo di tiktok Nel senso che Non potevo Pubblicare video Per 24 ore Per via Di una violazione Per molestia e bullismo Per un tiktok Che ho fatto Che era super semplice Però vabbè Ma adesso Posso Riniziare A caricare Quindi se avete visto Che per un giorno Non ho caricato niente Lì Su quella piattaforma Adesso sapete il perché Quindi andatemi A seguire anche lì Tutti i link Li trovate qua sotto Nell'info box Per oggi è tutto Io direi a questo punto Che ci vediamo domani Con un super video Il video più atteso Da me Da tutto agosto Adoro Ciao Ciao Wow!